E' aperto il mio nuovo shop Potete comprare magliette, felpe e maglie e maniche lunghe Vi lascio il link in descrizione per acquistarlo Hello everyone, sono sempre io E oggi siamo tornati con le reaction al YouTube Poop su Follettina Creation Per finire questa saga di YouTube Poop Perché lo youtuber in questione che ha fatto questi video ha fatto veramente una saga abbastanza divertente La scorsa volta avevamo visto i primi tre video Adesso vedremo gli ultimi tre con un finale bellissimo Iniziamo con il primo Ovviamente la solita intro Ciao a tutti i follettini e follettine Ah, guarda Ecco Teleporto Vedete? Solo a Londra Ancuno lo vieti Domanda Oh Cosa vorresti che dicesse come prima parola? Yavin Strasgari Guardate Qual è la risposta? Beh, naturalmente la prima parola vorrei che fosse Adesso pubblicità dentiera La dentiera mi No Le gengive si sono ristrette e si irritano facilmente Non me ne fre Il nuovo cuscinetto Algasiv Ciao a tutti Io solo Riescio Collettine Tirate la cazzo Di camponelline Non pensavo di ricevere La collettina Numero uno Di anni Le ho 21 Numero due Amo il bullismo Che è prima Numero tre Dovevo fare La cacca Le giostre Numero quattro Gianfranco Il super fatto Numero 20 Magari dopo A fine video Mi lasciate Il shampoo Nei commenti Ok Numero 6 Mio marito Non amo il riso Perché mi fa venire la nausea Solo l'odore Bene E cosa uscirà da quel pacco? Il riso ovviamente Riso Carola italiano Fu in quel momento Che realizzò di essere Fottuta Sorridi sempre nelle foto Ma nelle foto sorrido sempre Nooo Quando busti alla mia porta Voglio i fiori anche una torta Porta Ai tic tac Lo schizzare con lei È una mode Ma Che cazzo Sei Mava E' epicissimo Un finale più epico di questo Non l'ho mai visto Direi subito di passare alla prossima E questo è un livello superiore Poi lo scoprirete Sono con te ogni giorno Nooo Questa è una borsa Ok Guardate con tutti gli orsetti Che dentro c'è mamma Ma che Vedete Che bella mamma orsa Guardate questo manico Belli Bellissimo Ok L'ello è abbastanza grande Quindi Sta benissimo Anche per cosine A lei Aiutatemi Vedete Qui c'è Pus Oddio Ma Che sta succedendo Direi proprio fogna putri Da Oh mamma Wow Si lo apro in casa Perché non sono scaramantica Perché sono Fica Perché non sono Una manica Perché non sono Antica Perché Nel culo Della mia amica Ma che Cazzo Di Papica No vabbè Dove siamo arrivati A presto Ciao Ok Ok Non c'è più nulla da scrivere Mi piaceva questa inquadratura Fortina creation Io e Noia Ci siamo conosciuti In un gioco virtuale Che si chiama Se Ananale Dove vuoi Cosa Per se land Che sarebbero delle Lennoteche Lei veniva in una Lennoteca Dove facevo La Favere Giarrà No Ecco Avrei fatto la stessa faccia Insomma Insomma Una parola Tira l'altra Con Cizia La Sto Cizia All'inizio Io stavo Con Anonix Ma che Abbiamo scoperto Tante cose Allora Io l'ho lasciata Io madonna Berta Per mettermi Con Lalo Fina Ma Con tutti Anche lei Perché Faceva 400.000 Che Schi Proffi Addosso Che Come la vedono gli altri Oddio C'è un orsetto Carinissimo Guardate Come la vedo io Ma che Ma che No vabbè Questo qui È un genio In assoluto E direi di Vederci anche Il finale Di questa Bellissima Miniserie Su follettina Sono Con te Ogni Giorno E io Ho paura Guardi Un Leviosa No No Fermo Così Proprio Vai Vai Occhino Hai Conunciato Ma Dio Ma Lecidice Guardi Un Leviosa E Lecidice Fallo Tu Visto Che Sei Una Sapien Vediamo Forza Guardi Un Leviosa E Vabbè Ciao Era da un anno Che Ti Aspettavo Ma Che Ma Che Che Pollettina Togni Di solito Non leggo Molto Però In questo periodo Sto leggendo Un libro Che ho preso In edicola Da Una Ragazza In edicola Che c'è Che sentito La spazzaria Destracomunitaria Eccolo Che è Molto Interessante Later Viva Libertà Viva Libertà Io ho La mania Proprio Impellente Tipo Fare pipì Addosso Sì sì È Schifo Sono Christian Dior Anzi Sono No No Vabbè No Vabbè Ok Chi Sarà Michael Lei È Molto Figa Vi Ricordate Questo Bene Ha preso Il volo Sì No Vabbè No Tutto Ma non Questo Ed era Questo Il finale Che Follettina È Volata Altro Che Ti Telefono Casa Eh Vabbè Va bene Raga Direi di Chiudere Qua Questa Reaction Devo fare Anche presto Perché mi Si sta Scaricando La cam Spero Che vi sia Piaciuta Lasciate un like Iscrivetevi al canale Mettete il piaccio A Facebook Link In descrizione E niente Ci vedo Alla prossima